Il tema delle mascherine e quello del trasporto pubblico locale in questa fase di graduale riapertura rappresentano argomenti di stretta attualità che presentano elementi di criticità. Con la fine del lockdown le città sono tornate ad animarsi, le persone stanno riprendendo seppur gradualmente le vecchie abitudini. Si può uscire ma indossando le mascherine. È proprio a causa dell'aumento del numero di persone in circolazione scattata la corsa all'accaparamento delle mascherine e diventate obbligatorie nei luoghi chiusi come negozi, supermercati, aziende e uffici pubblici. Una domanda in continuo e costante aumento a cui le farmacie non riescono a far fronte almeno in questi primi giorni di fase 2. A Campobasso le farmacie nelle quali ci siamo recati sono rimaste a secco. Le mascherine chirurgiche, quelle per le quali il commissario Arcuri ha chiesto ed ottenuto il prezzo calmierato a 50 centesimi, sono introvabili grazie proprio all'accessibilità del prezzo. I farmacisti fanno sapere che al momento non hanno avuto ancora indicazioni sul costo di questi dispositivi di protezione individuale. E poi ci sono le mascherine di tessuto lavabili, quelle destinate ad esclusivo uso sanitario, le FFP2 e le FFP3 che in questi mesi di emergenza abbiamo imparato a conoscere. Ma in questo caso il prezzo è sicuramente più elevato ed è sicuramente anche più facile reperirle. Una situazione con la quale dovremo imparare a convivere per molti mesi ancora e quindi sarà indispensabile garantire con regolarità il rifornimento delle mascherine anche alla grande distribuzione. Ma il problema delle mascherine non è l'unico con il quale i cittadini sono costretti a convivere. Il trasporto pubblico locale sta risentendo delle restrizioni imposte dal governo. Gli autobus urbani che, a dire il vero, in questi primi giorni di fase 2 viaggiano quasi vuoti, sono stati interessati da una riduzione dei posti. Per ogni fila di posti a sedere la metà circa dovrà restare inutilizzata per garantire il distanziamento sociale. Il risultato? Molti passeggeri resteranno a piedi quando i posti a disposizione saranno occupati. Una situazione che al momento non rappresenta un problema perché ci sono ancora poche persone in giro, ma nelle prossime settimane, quando le restrizioni saranno via via allentate, aumenteranno anche i passeggeri e in quel caso si annunciano ulteriori problemi e disagi.